Un taglio alla vegetazione in stato di abbandono vicino ai centri abitati per allontanare il rischio degli incendi nella giornata della prevenzione delle comunità antincendi boschivi a cui ha aderito la regione toscana. Cittadini, istituzioni e associazioni di volontariato antincendi in azione a calci in provincia di Pisa e in altre zone della regione per imparare a tenere pulito l'ambiente dal sottobosco e da tutto il potenziale combustibile dei roghi. Noi vogliamo fare opere di prevenzione, allontanare la vegetazione dalle abitazioni, fare fasce di penetrazione all'interno di aree come queste che permettono in caso di necessità e di bisogno di scoppio di incendi boschivi di poter intervenire per poter fare tutte quelle opere di repressione in maniera più rapida, più efficiente e anche in sicurezza. Motoseghe taglia erba e trattori in azione ma il pericolo di innesco degli incendi arriva anche dai rifiuti abbandonati all'aperto che nel corso della giornata sono stati raccolti insieme alla vegetazione in eccesso. Se i cittadini insieme alle istituzioni fanno un po' di lavoro tutti noi siamo più al sicuro, quindi grazie della collaborazione. L'evento a calci è servito anche a spiegare come si ammassano i materiali raccolti per avviarli a un corretto smaltimento anche tramite abbruciamenti fatti in sicurezza in zone come quella interessata dall'iniziativa a ridosso del bosco. È assolutamente fondamentale la conoscenza dei cittadini dei rischi, l'autoprotezione dei cittadini, soprattutto di coloro i quali devono sapere di essere una zona maggiormente a rischio per alcune criticità e noi questo l'abbiamo fatto evidenziando queste criticità sulle mappe di protezione civile e rendendoli accessibili anche attraverso gli strumenti online e anche per sapere come agire. La giornata di autoprotezione che si è svolta in Toscana è già stata sperimentata con successo in altri paesi dell'Europa e negli Stati Uniti. Grazie a tutti.